lo zodi 105 presenta teste di casting una nuova catena di supermercati economici cerca una testimonial per sbarcare sul mercato italiano la vittima dovrà disintegrare una serie di salvadanai a forma di conigli urlando lo slogan non rompetemi coniglioni oh benvenuta scattante io devo ammazzare qualcuno ma io sono italiana e sono del nord però mi piace parlare in siciliano non lo so perché ho visto troppo fiction ma chi c***o te l'ha chiesto? falle fare un sacco di urli in camera vuoi sfogarti? molto mamma mia allora fammi un po' di urla in quella camera di una ferocia inusitata lei sa ballare la zumba? io ballo mi piace ballare balli latinoamericani facci vedere bravo bravo cantaci qualcosa bailando bailando no no vabbè ragazzi ma con chi abbiamo a che fare coniglioni è il nome di questa catena di supermercati veneta io non ho fatto il primo supermercato galleggiante che si è inabissato il documento ok perfetto facciamo una prova quando ti do azione fai pin pin ghiaccioli di pesce 12 euro ma avete rotto i coniglioni azione pin 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 ghiaccioli di pesce così tanto no mi sono rotto i coniglioni no i coniglioni signora i coniglioni i coniglioni ghiaccioli di pesce così tanto così tanto mi sono rotto i coniglioni bravissima brava perfetto allora indossa quegli occhiali adesso afferri il martello guardami come lo devi fare rape rosse 33 euro non rompetemi coniglioni e cominci a fracassare quel coniglio bianco finché non è ridotto in briciole ora sfogati sul coniglione azione rape rosse 33 euro non rompetemi coniglioni ancora ancora azione rape rosse 33 euro non rompetemi coniglioni ancora ancora rimettetemi di su fammi grrr fammi grrr sì sì continuo manca miseria vai basta tutto basta aspetta guarda là sono su Italia 1 io sono innamorato grazie a tutti Grazie a tutti.